Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono AXStarter e oggi ragazzi sono qui su GTA V Perché vi voglio mostrare qualcosa di sensazionalmente emozionante e molto bello Cendo di giotto, chiedo scusa, devo fare un saluto in particolare a un amico che è molto lontano dall'Italia Mi ha chiesto di salutarlo in un mio video perché mi segue molto Quindi ragazzi io saluto Ue 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 On tien ue ue Ugme bum uem Ossas Quindi ciao Ossas, ti saluto, sei un grande che mi segui Comunque ragazzi, se non avete capito io sono qui con Franklin Però dove? Sopra un ripetitore Sulla scritta Hollywood Eh sì scusate Winewood Mi butto giù e iniziamo con il video Ragazzi sicuramente avete visto da... Che cazzo il paracaduto non si apre Sicuramente avete visto da miniatura e titolo che oggi vi porterò un veicolo stranissimo Ragazzi vi invito a lasciare tantissimi like già da ora E magari arriviamo a mille like così da farmi vedere il vostro supporto Tanto lasciate un like ciascuno ci arriviamo subito Quindi voi già tu, tu che stai vedendo questo video lascia like già da ora Così ci arriviamo subito a mille like Inoltre commentate qui sotto facendomi sapere che cosa ne pensate del veicolo che vi mostrerò E soprattutto consigliatemi qualcos'altro che porterò nei prossimi video Ecco Ragazzi iniziamo subito Faccio spunare il veicolo in questione che praticamente è una macchina aereo Ma avete presente il deltaplano che vi ho mostrato? Eh il veicolo è questo qua Eh che cavolo rega quanto è figo Dai su via È praticamente una macchina Non è una macchina Cioè non va per strada Non cammina Ma vola È tipo come non so l'elicottero dell'ispettore gadget È molto figo C'ha due eliche di sopra Due eliche da dietro Per andare tipo come si chiama L'atomic blimp C'ha questa specie di due razzi Che minchia Fa tanto tipo cattivo L'artiglia di pesante viene qui davanti Ci sono delle mitragliette che sono queste qua Vedete? Mitragliette Mitragliette Cioè non siamo di puttanate Eh mitragliette Dei razzi Dei razzi comandati Radiocomandati E non Un'arma speciale mai vista su nessun altro veicolo Oltre uno in particolare che lo possiede di suo già di natura È questo qui Quello Non so Un cannone È praticamente un cannone Del carro armato Quindi abbiamo la potenza Di un carro armato Su questo veicolo volante Vi rendete conto Dove non arriva il carro armato Arriva questo veicolo Wow Wow Davvero molto bello L'interni Oh Ma lo sto portando È molto leggero a quanto mi pare È molto leggero Se me lo sto portando così Tranquillamente Addio Aspetta Piano Piano E vabbè Mi sa che non hanno inserito il freno a mano Maledizione Vabbè L'interni Questi dovrebbero So questi in poche parole Quasi come un elicottero E la leva dell'elicottero appunto Poi il sedile è inesistente Davvero molto scomodo Questo sedile Che cavolo Potranno farlo un po' più Ok Entriamo nel veicolo rega Sempre se non ce lo portiamo noi A spasso il veicolo Entriamo Ole Franklin si è messo il casco da pilota Giustamente Perché è pericoloso sto aereo Eh vabbè Elicottero Chiamiamo elicottero Ok vedete Cioè praticamente Prendi il volo In me anche non si dica Cioè ora Atterra un attimo Ora clicco il tasto Per volare Ha già preso il volo Senza neanche Fa tanta merda Oddio Rega avete mai visto un elicottero volare Senza eliche Beh Oggi lo state appunto vedendo Bene ragazzi A questo punto Ora possiamo un attimo navigare Dopo che vi ho fatto vedere Qualche cavolata così Vediamo nel frattempo Gli interni Che sono davvero Fatti bene E fighissimi No l'elicottero sta andando Molto lontano Devo dire che questo elicottero Mini elicottero Diciamo mini elicottero È abbastanza lentino Però Dai Si può fare Si può fare Soprattutto per chi ha le armi Che ora vi mostrerò In casa è potente Secondo me Sì 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 Questa è la mitraglietta Quella buona Questa è la mitraglietta Quella buona Quella per Insomma Del laser Del laser Sì vabbè La mia pronuncia Questa è proprio Quella buona 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 Regà Spacca i culi questa eh C'è Davvero Guarda Sono dei mini cannoni Sono Non delle Mitragliette Mini cannoni Sono Vabbè Io non so guidarlo Sto coso C'è gli elicotteri Sono l'unica cosa Che non so guidare Guardate Franklin Come si sposta Destro e sinistro Per spostare Sto coso Sembra che sta a fare La gara di motociclette Sembra Forse dovrei mettere La visuale in prima persona eh Forse Direi forse Vai A quell'auto E ne ha presi due Anziché una Attenzione Non so guidare Boom Tanto io sono immortale Perché c'ho l'immortalità Senti Mo facciamo scontro Elica contro elica Eh Eh che cavolo Vabbè È inutile che vi dico Che ci sono anche Missili non guidati Che li posso sparare Dove cavolo voglio io Ma il punto è che Non riuscendo Nemmeno con i missili guidati Figuriamoci con quelli Non guidati va E poi ci sono quelli Del carro armato Che guardate un po' Cosa fa Posso spostare Li posso buttare anche lì Ah anche dietro Anche dietro Ottimo ottimo Proprio a 360 gradi Non so con quale cazzo Di teoria però Vabbè Cioè guardate Lo spinge proprio Lo spinge È davvero molto potente E direi appunto Di usare questa qui Perché è più Potente Quest'arma Ed è migliore Perché comunque Riesco ad usarla meglio Anziché Dei missili Ecco qua Ecco qua Ecco Cioè rega Comunque Dittornando al punto nostro Questo elicottero Se gli metto il turbo Guardate Diventa un vero e proprio aereo Quasi Diciamo Perché non può fare Le giravolte Proprio come si deve Però Diventa un cavolo di aereo Che Voglio dire Vuoi mettere Vuoi mettere Un elicottero Che fa anche Da aereo A sto punto Diciamo Molto compatto Molto potente E molto figo Anche in un certo senso Ma la cosa che appunto Mi ha sorpreso di più E appunto Il carro armato Cioè il carro armato Il missile del carro armato Per il resto È un veicolo davvero Molto bello Divertente da guidare Chiedo da dove li prendono Sti veicoli Perché è davvero Qualcosa di eccezionale Ora lo spingo giù Vediamo Oddio No sta cadendo anche Franklin Calmati Franklin Calmati Dove sta il veicolo Ah si è buggato qua Si è buggato Franklin ma che micchia Ma che micchia fa Franklin Io non so Che cazzo combina Franklin Ecco qua che sta cadendo Cadiamo insieme Cadiamo insieme Ma che cazzo Le otrepassa le cose Ma Oh Bene ragazzi Purtroppo io vi volevo far vedere Anche un secondo veicolo Molto figo Ma in realtà Non ho avuto l'opportunità Però il gioco mi crasha Inspiegabilmente Devo capire qual è Il problema E devo trovare una soluzione Nel frattempo Volevo farvi vedere Questa mucca Che si può guidare Giusto perché Insomma vi voglio fare una domanda Dopo di Dopo questa Dopo questa mucca Che si può guidare Che tra l'altro Io la prendo per le orecchie E me la Me la porto tranquillamente Guarda posso Eter il turbo alla mucca Sicuramente Ci avrà un razzo in culo La mucca Che madonna Levati davanti Come questo Ci sono veicoli strani Che potrei mostrarveli Tutti quanti in un video Che dite Fatemelo sapere Qui sotto nei commenti Con un like O con un commento Dicendo Starter si Porta questi veicoli strani E io porterò Tipo questi veicoli Dove posso guidare Le mucche Dove posso guidare Veicoli Con razzati A bambino Pertanto io vi chiedo Di scusarmi E' stato un video Molto breve Ma per certi versi Anche intenso Quindi ragazzi Io vi chiedo comunque Di lasciare mille like A questo video Se il video vi è piaciuto E se l'idea vi è piaciuta Mi aiuterete E farete vedere Anche questo veicolo Speciale I vostri amici E inoltre Commentate qui sotto Consigliandomi Qualcos'altro Insomma Ditemi cos'altro portare Oppure ditemi appunto Porta qualche altro Veicolo spaziale Porta qualche altro Veicolo Che vola Porta quello Che volete voi Insomma Consigliatemi Tutto quello che volete E io poi lo prenderò In considerazione Ovviamente se l'idea Mi piace Scusatemi ragazzi Ma purtroppo è un periodo Un po' Così Quindi spero che vi siete Comunque divertiti Guardando questo video Ovvio Intrattenuto In un certo senso Ragazzi Mi raccomando Il veicolo All'inizio È stato qualcosa di figo Per questo video è tutto Noi ci vediamo Al prossimo video Ragazzi E Scusatemi